Attenzione, inizia il campionato mondiale della Coppa del Mondo, inizia la fase a girù, Iran-Tonesia, Francia-Ucraina, Belgia-Colombia, Italia-Finlandia, Slovacca-Croazia, Parma-Macedonia, Israele-Kosovo-Giappone-Svezia, inizia la partita Italia-Finlandia. Partita importantissima da parte di tutti quanti, partita se vinciamo questa andiamo ai quarti di finale, inizia la partita, Insigne, passa ad Immobile, Immobile non si fa fermare, Immobile Giro, Immobile! Eh, il grande gol, il grande gol! Insigne! Perde la palla! Barella! Bucci! Va verso la porta! Viene fermato! Immobile! Palla quasi fuori! Palla fuori! Immobile! Barella che passa a Chiesa! Chiesa! A Carbi! Giorginio! Fine primo tempo! Si continua! Immobile! Guarda come si avvicina la porta! Come facciamo gol! Come facciamo gol! Giro! Immobile! Giro immobile! Si continua, attenzione! Insigne! Giorgite! Polo! Polo! A Carbi! Ma verso la porta! Lo stadio impazzisce, quasi al novantesimo! E indovinate chi fa gol! E indovinate chi fa gol! Indovinate chi fa gol! Si continua, attenzione! Insigne! Immobile! Va verso la palla! Palla quasi fuori! Prende mobile! Corre! Corre verso... Schiva gli avversari! Corre! Verso la porta! E guardate! Giro immobile! Giro immobile! Giro immobile! Finita! La partita! Si va! Ai quarti di finale! Della Coppa del Mondo! Ai quarti di finale! Ai quarti di finale! Si festeggia! Si festeggia! Come se fosse l'ultima volta! Si festeggia!